Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Studentessa quindicenne cade dalla finestra del liceo Mamiani a Pesaro, studenti sotto shock Assalto notturno al distributore automatico nel centro commerciale a Sant'Orso, a Fano Consegnate a Roma le bandiere blu 2017, alle Marche vanno 17 vessilli e si conferma la terza regione d'Italia Erbacce in centro storico, sotto gli occhi di tutti e Rosa della Ceca si improvvisa al reporter Due volte al mese hai l'erba al testare cittadini, sarei un po' più decoroso, no? Alla Colle Marathon oltre mille atleti provenienti da tutto il mondo, sul podio maschile però solo stranieri Il Fano vince in casa e si gioca tutto nel doppio confronto play-out contro il Forlì Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia In apertura la cronaca diversi episodi che vi racconteremo ma partiamo da quanto è accaduto questa mattina a Pesaro Tragedia sfiorata questa mattina a Pesaro in piazzale Matteotti Una studentessa minorene del liceo Mamiani è precipitata da una finestra del secondo piano dell'istituto scolastico in via Gramsci Dopo le 10 durante l'ora di ricreazione Un volo di oltre 6 metri che poteva avere conseguenze ben più drammatiche di quelle occorse La ragazza è atterrata braccia avanti su una siepe proprio sotto la finestra che ha fatto da ammortizzatore ed evitato così il peggio L'ho visto a volare con le braccia aperte e precipitare a terra con un grande urlo E non ha detto nient'altro dopo una volta che era a terra? Gridava, gridava evidentemente dal dolore, la portava, la piada, viva Cascata di piedi? Cascata in avanti In avanti Cascata in avanti Qualcuno gli ha succorso subito? Io sono corsa, poi c'era un'altra donna che fortunatamente faceva l'infermiera e ha chiamato il 118 I sanitari del pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore di Pesaro dove la ragazza è stata portata definiscono le sue condizioni buone e non in pericolo di vita Dopo il volo dalla finestra attorno alla studentessa si è formato un capannello di gente E che le ha prestato subito soccorso, compresa un'infermiera che si trovava a passare di lì Proprio come le tantissime altre persone che hanno assistito all'accaduto La finestra ad angolo si affaccia su un luogo di grande transito, sia pedonale che di auto Siamo a pochi passi dal salotto buono di Pesaro Oltre ai sanitari arrivati rapidamente In piazzale Matteotti sono arrivate anche una squadra dei vigili del fuoco e gli uomini della questura che ora indagano sulle cause dell'accaduto assieme ai colleghi della scientifica che hanno fatto rilievi sul luogo dell'impatto Tanto sgomento per la tragedia sfiorata tra compagni di scuola e docenti ma nessun commento sull'accaduto, almeno fino a quando non si sarà fatta luce su quanto avvenuto A Tolentino invece, intorno alle 10.30, all'Istituto Comprensivo Don Bosco una sedicenne ha tentato il suicidio lanciandosi dal secondo piano Trasportata in eleambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona Versa in gravi condizioni Non ci sono per ora indagati Gli accertamenti su quanto accaduto sono coordinati dalla magistratura E ancora attivandalici e ancora una volta a essere preso di mira è il centro commerciale di Sant'Orso Danneggiato nella notte un distributore automatico di sigarette posto all'ingresso di una tabaccheria all'interno della zona commerciale di Sant'Orso a Fano Il fatto sul quale sono in corso le indagini almeno secondo le prime dichiarazioni rilasciate dal titolare della tabaccheria è avvenuto intorno alle 3.30 della scorsa notte ma saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza sempre che l'impianto sia funzionante a chiarire maggiormente le dinamiche Oltre al danno economico delle sigarette rubate ingenti sono stati i danni strutturari alla scocca del distributore dove, per capirci, sono presenti i meccanismi di lettura di carte magnetiche e banconote componenti che hanno costi molto elevati e che, data la dinamica, difficilmente potranno essere sostituiti E cambiamo argomento Sono 17 le bandiere blu che la FE Italia ha assegnato alle Marche per il 2017 L'assessore all'ambiente Samuele Mascarini e il direttore dell'ufficio turistico Mauro Giampaoli hanno ritirato questa mattina a Roma la bandiera blu 2017 per il comune di Fano Assieme a Fano sono state riconfermate altre 16 località balneari delle Marche, come anche Mondolfo Inoltre, Marina dei Cesari a Fano ha ricevuto la bandiera blu per gli approdi insieme ad altri sei porti turistici marchigiani La bandiera blu potrà sventolare, come l'anno scorso, sulle spiagge di Fano Nord, Sassonia, Torrette e Ponte Sasso Ed ora veniamo alle vostre segnalazioni, sempre molto importanti per noi, come sempre e questa volta a fare, a destare l'attenzione dei cittadini sono le erbacce, le erbacce che alle volte affliggono monumenti e mura storiche Rose della Cecca, ormai noto personaggio, ha una sua personale ricetta, vediamo Un video in rete da ieri A postarlo è Rosa della Cecca, che tutti conosciamo come divertentissimo personaggio e colonna portante del gruppo comico del San Costanzo Show nel quale, passeggiando per Fano, l'attenzione della signora cade sull'erbaccia infestante che cresce sui muri e lungo le strade del centro città Ho fatto la schierata, guarda che roba brutta, però come si fa? C'è me l'erba sua sul fanuccio, sapete? In modo particolare, nel video ci si trova in Via Nolfi e l'edificio è l'istituto scolastico Olivetti La signora Rosa sollecita l'amministrazione comunale a ripulire anche ogni tanto strada e facciata dell'edificio e noi, raccogliendo la sua richiesta, abbiamo incontrato l'assessore allevori pubblici Cristian Fanesi, che ci ha gentilmente spiegato ciò che è contenuto nel regolamento edilizio del comune Infatti, l'edificio privato si affaccia su una strada comunale e proprio a questo riguardo la norma dice che è obbligo dei proprietari dei fabbricati lungo le vie pubbliche eliminare la vegetazione spontanea lungo i muri di cinta e fino al marciapiede Il comune si occupa anche delle sue strutture come abbiamo fatto recentemente anche presso la caserma dei militari lungo via Francesco Palazzi siamo intervenuti noi però in generale spetta al proprietario della casa intervenire Nel caso specifico, essendo anche una scuola gestita la provincia interverremo in maniera definitiva noi a breve però mi piacerebbe ricordare che se ognuno ce ne si cura dal proprio angolo di casa sarebbe sicuramente un vantaggio per il pubblico, per l'amministrazione perché ovviamente con un piccolo lavoro riuscirebbe a tenere decorosa una intera via Bene, il prossimo fine settimana a Fossombrone va in scena il trionfo del Carnevale una delle più belle manifestazioni storiche di tutte le marche sentiamo di che cosa si tratta e quali sono le novità per quest'anno Torna il trionfo del Carnevale e si anima il centro storico di Fossombrone tornando al Rinascimento da venerdì 12 a domenica 14 maggio la Proloco Forum Semproni metterà in scena uno spettacolo che da anni torna a rivivere i fasti e le vicende raccontate dal buffone di corte Attanaggio Attanaggi è il primo impegno ufficiale del neopresidente della Proloco Massimo Berloni che cercherà di coordinare il tutto secondo una logica imprenditoriale di trasparenza e sicurezza divertimento dunque ma in maniera responsabile Sì bisogna divertirsi ma il fatto stesso che bisogna divertirsi bisogna farlo fino in fondo non può essere un divertimento che poi sfoccia in risse o gente morta per strada morta nel senso lato della cosa ovviamente perché si è ubriacato e perché questa gente non si sta divertendo divertirsi vuol dire partecipare vuol dire incontrare la ragazza piuttosto che il ragazzo vuol dire stare bene no? Se uno non sta bene come può divertirsi Il centro storico saranno insieme di suggestioni e di momenti evocativi dove potrete trovare artisti di strada giochi per bambini mercati rinascimentali banchi di mestieri d'epoca e ancora trampolieri arcieri musici spettacoli di fuoco stornellatori e volo di rapaci aggiungete a tutti questi ingredienti una bellissima sfilata di mille figuranti in abito storico 11 contrade che allestiranno 11 taverne dove potrete gustare prelibatezze locali proposte in altrettanti menù d'epoca Ringrazio pubblicamente la Proloco per essersi preso all'impegno di organizzare questa rievocazione storica che al di là dell'evento di per sé dal punto di vista storico secondo me rappresenta un importantissimo momento di aggregazione sociale nel senso che già da mesi i quartieri ragazzi soprattutto si vedono quasi quotidianamente per preparare vestiti, organizzare i giochi, preparare le locande quindi si crea un momento veramente importante di aggregazione che secondo me è la cosa più importante poi ovviamente rimane l'evento al quale invito tutti perché è un evento comunque bello, suggestivo nelle vie del centro storico di Fossombroni al buio illuminate dalle torce come all'epoca abiti antichi, le vecchie professioni spettacoli di falconieri, mangiafuoco, acrobati eccetera per cui sono convinto che anche quest'anno l'Ondo le durà da quando è ripartito è diventato veramente un bellissimo spettacolo a mio avviso saranno proprio le contrade infatti che si daranno battaglia nei giochi per conquistarsi in modo sentitissimo l'ambito palio del cardinale la sfida inizierà sabato pomeriggio e troverà il suo clou domenica quando all'interno del campaccio ci saranno le finali dei giochi del cardinale e una giostra equestre dove poter ammirare i cavalieri delle contrade che dovranno centrare l'anello sotto gli occhi della nobiltà il centro storico rimarrà ovviamente animato dai popolani che non smetteranno di far baldoria cantando e inneggiando la loro contrada il tutto mentre gli intrattenimenti artistici proposti e gli spettacoli di fuoco terranno viva la voglia di storia e di tradizione che ogni anno regala a tutti momenti indimenticabili vorrei ringraziare la Proloco perché portando tanti turisti siccome quest'evento sta creando molto entusiasmo a livello regionale portando tanti turisti è un aiuto economico per tutte le nostre attività commerciali e bed and breakfast, ristoranti e alberghi che grazie all'impegno e al volontariato della Proloco riescono a lavorare a pieno regime è un vero tuffo nel passato ed ora il servizio viabilità della provincia di Peseo Urbino informa che in seguito al trasferimento alla regione Marche di alcune strade provinciali ex ANAS l'Urbinate, della Valcesano, la Contessa, la Flaminia e la Pechiese le autorizzazioni per la circolazione delle macchine agricole eccezionali trattori, mietitrebbie e altri previste dall'articolo 104 del codice della strada sulle ex strade ANAS non sono più di competenza della provincia ma devono essere fatte le richieste alla regione Marche attraverso una domanda al servizio tutela, gestione e assetto del territorio e parliamo di sport prima di dare la linea alla redazione sportiva guardiamo, diamo un occhio alla Colle Marathon a cosa è successo domenica, vediamo la Colle Marathon non è solo una delle dieci corse podistiche più importanti a livello nazionale è di più, molto di più innanzitutto è una delle cartoline più belle che ci possono essere del nostro introterra i saliscendi che accompagnano gli atleti da barchi passando per Orciano, Piagge, San Giorgio, Mondavio e San Costanzo partendo dai 320 metri sul livello del mare per arrivare nel cuore della marineria fanese sono un gigantesco spot pubblicitario non a caso, la prima cosa che la vincitrice femminile di quest'anno ha detto dopo i 42 stenuanti chilometri è stata panorammi mozzafiato, anzi penso che verrà fare anche una vacanza qua e quello dello sport è la nuova frontiera del turismo la ricetta per colmare il vuoto della bassa stagione 750 presenze nelle strutture ricettive del territorio non sono cosa da poco di questi tempi è la cosa che a noi piace perché è un'occasione anche di promozione del territorio si parte dalla collina e si arriva al mare vedendo i nostri borghi si entra dentro il castello di Mondavio quindi veramente ci sono tutte le suggestioni tutte le bellezze che questo territorio esprime e chi vive questa emozione poi molti di questi tornano e per noi è un risultato doppio ma con le marathon è anche volontariato 13 le proloco coinvolte e 14 le associazioni sportive e oltre 500 i volontari che approntano il percorso e curano l'organizzazione senza batter ciglio per amor di patria 15esima edizione sotto il segno veramente della solidarietà dell'accoglienza e del nostro stile di vita che propone alla gente quindi abbiamo anche oggi fatto un bel lavoro grazie a tutti i volontari alle istituzioni ne mettiamo tanti perché questa è una maratona dove sviluppa tanto calore e tanto entusiasmo a tutti ma la Colle Marathon ha un'altra cosa che la rende particolarmente unica sono le ambulanze sul percorso ben sei con 30 operatori pronti a intervenire medici, infermieri, anestesisti rianiematori e cardiologi che rendono la corsa più sicura in assoluto abbiamo delle staffette di comunicazione più logicamente quello che è importante nell'emergenza è la rapidità di informazione quindi quella è la cosa principale un posto medico avanzato dove in genere è un pronto soccorso a tutti gli effetti noi non abbiamo mai inviato un atleta al pronto soccorso di Fano bene presto vi mostreremo un reportage completo sulla Colle Marathon rimanendo in tema sportivo il Fano vince in casa e si gioca la salvezza nel prossimo doppio confronto play-out contro il Forlì ma per tutto quello che è avvenuto nel weekend nel fine settimana dal punto di vista sportivo compresa anche la Colle Marathon io passo la parola alla redazione sportiva grazie Lino buonasera a te e ai telespettatori di Fano TV partiamo subito da quello che sportivamente parlando potremmo definire l'evento più importante della città di Fano ovvero la Colle Marathon che come avete visto si è svolta ieri con arrivo nel suggestivo porto turistico Marina dei Cesari erano 1074 gli atleti che ieri mattina alle 9 si sono presentati ai piedi del Castello di Barchi per la partenza a questi vanno aggiunti 142 che hanno disputato la 10 km dell'Isippo una gara non competitiva dislocata su un circuito tutto fanese tra centro storico e mare i 50 tra studenti e professori degli istituti Padalino Nolfi e Volta che hanno percorso la parte iniziale e finale del percorso e i 40 appassionati di Nordic e Fit Walking che hanno seguito la carovana con i caratteristici bastoni da passeggio alla fine erano circa 1300 quindi le persone che non hanno voluto perdersi la 15esima Maratona dei Valori evento che come ha sottolineato il sindaco Massimo Sieri al traguardo è stata una vera e propria festa di sport resa ancora più bella dalla tribuna montata quest'anno dagli organizzatori proprio sul rettilineo finale alla fine dopo aver percorso i 42,195 km attraversando i borghi fortificati di Barchi Orciano Piagge San Giorgio Mondaglio e San Costanzo ad arrivare per primo sotto la bandiera scacchi del porto turistico è stato il marocchino Tariq Bammarouf che ha fermato il cronometro a 2,24 e 58 dietro di lui il kenyota Samson Kajat con 2,24 e 58 e terzo un altro marocchino Yon Zittuni distanziato dal vincitore di 2,54 primo italiano il pesarese Francesco Tornati giunto quinto in 2,38 e 0,07 mentre il primo fanese è stato Riccardo Quattrini della Colle Marathon Club nono in 2,41 e 12 tra le donne invece a trionfare è stata la favorita della gara Federica Moroni che ha percorso la distanza in 2,53 e 36 dietro di lei Denise Tappatà e Federica Poesini subito fuori dal podio ma autrice di una gara splendida Laura Antonioni della SD Calcinelli Run ma come più volte ripetuto da tutti ad essere esaltati alla Colle Marathon non sono solo i vincitori ma tutto quello che c'è dietro con tantissima gente assiepata lungo le strade a salutare i protagonisti e ad accompagnarli in quella che è sì una maratona suggestiva ma al tempo stesso molto faticosa a causa dei tantissimi saliscendi Fano TV trasmetterà nei prossimi giorni uno speciale con i fatti salienti della manifestazione intanto sentiamo le parole a caldo dei protagonisti raccolte per noi sul posto da Lino Balestra prima impressioni e pochi secondi dopo aver tagliato il traguardo eh sì la prima mezza è stata tranquilla è stata tattica diciamo però dopo il ventitresimo il Chignotto ha fatto un scatto e poi mi sono riuscito a prenderlo al venticinquisimo che c'è una salita e poi dopo il venticinquisimo siamo tutti due fianco fianco fino al trentatresimo ho preso il mio ritmo e sei andato via complimenti grazie allora che gara che gara è che gara è stata la maratona più bella fatta nella mia vita veramente uno spettacolo bellissima veramente un panorama invidiabile tempi no no stupitissima per fare questa maratona ho saltato la maratona della mia città e sono contenta però alla fine perché meritava e dalla colle maraton passiamo al calcio con l'alma juventus fano che ha chiuso ieri la stagione regolare nel campionato di Lega Pro ed ora è chiamata alla doppia sfida salvezza contro il Forlì serviva una vittoria ai ragazzi di Cuttone per aggiudicarsi la posizione migliore in vista del match da dentro fuori dei play out un match che vedrà i Granata impegnati contro il Forlì che a sorpresa ieri ha perso in casa contro la Giare Trocè Sancona conquistare i tre punti però non è stato facile e per avere la meglio di un indomito bassano si è dovuto attendere il 92esimo quando la zampata di Fioretti ha fatto esplodere di gioia gli oltre 1500 spettatori presenti al Mancini dopo un primo tempo fatto di botte risposta con padroni di casa e ospiti in più di un'occasione vicini al gol a passare in vantaggio per primo sono stati gli ospiti con una rasoiata dal limite di Gasci che trafigge l'estremo difensore fanese Menegatti l'alma non sta a guardare e con Melandri prima e Cocuzza poi va vicino al pareggio riuscendo nel proprio intento al 39esimo grazie a Schiavini l'esto a raccogliere una respinta corta dell'incerto portiere veneto Bastianoni e lo stesso portiere ospite è protagonista suo malgrado anche del già citato gol partita di Fioretti un tiro cross con poche velleità che però l'estremo difensore spedisce in fondo al sacco nel tentativo di bloccare la sfera dopo aver evitato la retrocessione diretta dunque ora i ragazzi del patron Gabellini sono chiamati ad un ultimo sforzo ovvero superare il Forlì nel doppio confronto del 21 e 28 maggio due risultati su tre per l'alma che giocherà il ritorno in casa per mantenere la categoria infatti ai Granata basterà anche un doppio pareggio dovrà invece assolutamente vincere il Flaminia nel campionato di calcio a 5 femminile di Serie A dopo che l'andata della finale playoff contro l'Angelana ha visto le fanesi soccombere in casa per 5 a 2 il ritorno previsto in terra umbra per domenica prossima decreterà le sorti della stagione per le ragazze di Alessandri Imbriani che in questo momento si stanno giocando l'accesso alla Serie A d'élite e invece Scudetto per la SD Adriatica Fano che domenica scorsa a Treviso ha vinto il campionato italiano di calcio a 5 Ipovedenti il team del presidente Antonio Falasconi ha superato in finale per 5 a 1 la SD Citturin per 5 a 1 e apriamo ora una piccola parentesi dedicata alle bocce per parlare nuovamente dei successi dell'icepot Fano ai campionati nazionali della Fisdir è di una medaglia d'oro e una d'argento il bottino portato a casa dai ragazzi del presidente Romina Lesiani che esultano per la vittoria del titolo individuale C21 di Manuel De Marc e per il secondo posto nella coppia conseguito dallo stesso De Marc col fido compagno Manuel Anniballi la manifestazione organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Bocce si è svolta a Pineto degli Abruzzi e ad accompagnare la spedizione dell'icepot c'erano anche Romolo Giovannini e Adriano Frattini allenatori dei ragazzi e tesserati per la bocciofila San Cristoforo e sempre in tema di bocce di bocciofila San Cristoforo è dei giorni scorsi la notizia che Corrado Tecchi 63enne fanese è già presidente della società di via Castelfidardo e il nuovo presidente del comitato regionale Marche della FIB Tecchi eletto durante l'assemblea elettiva svoltasi nella sala conferenza del CONI succede al 38enne tavernellese Andrea Evangelisti e la chiusura della rubrica sportiva di questa sera è dedicata a Cristian Carletti giovane fanese astro nascente della disciplina del tiro a volo il giovane portacolori del TAV Fano ha conquistato un bellissimo secondo posto domenica scorsa nel secondo gran premio giovanile di Fossa Olimpica andato in scena a Udine Carletti dopo un testa-testa mozzafiato è stato superato per un solo piattello di differenza dal padrone di casa Diotti vissando così la medaglia d'argento ottenuta sette giorni fa nel Memorial Fuglio Bellucci organizzato proprio dalla società fanese presieduta da Marcello Palazzi e col tiro a volo e i complimenti a Cristian Carletti chiudiamo la pagina sportiva di questa sera come consuetudine ormai vi ricordo l'indirizzo mail al quale poter inviare le vostre segnalazioni che è sport-fanotv.it per questa sera è tutto a voi tutti telespettatori di Fano TV lavori ed una buona serata Bene grazie e con questa pagina sportiva chiudiamo questa edizione di Occhio alla Notizia naturalmente vi segnalo il numero che venirete in sovraimpressione per le vostre segnalazioni sempre come ho detto precedentemente importanti per noi a seguire dopo il telegiornale ci sarà una puntata di Dopocena dove si parlerà dei centri sportivi del CSI appunto in tema sportivo come se fosse una continuità grazie per essere stati in nostra compagnia io mi fermo qui Occhio alla Notizia torna domani sera alle 8.30 buon proseguimento grazie per la notizia